La Pianese sbanca il Bernicchi con un netto 3-0 ai danni del Tiferno. La formazione bianconera ottiene la sesta vittoria nelle ultime otto giornate e si porta al quinto posto della classifica a quota 53 punti. Tiferno che invece incappa nella quinta sconfitta consecutiva e ora sono soltanto tre le lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. Il primo squillo del match lo suona la Pianese con il tentativo di trovare neutralizzato da Elisei. Al dodicesimo gli ospiti protestano per un presunto tocco di mano in area di rigore di Ruggeri sulla conclusione di Trovade. Per l'arbitro Piero Maragone di Udine però non c'è nulla. Gli ospiti insistono e al sedicesimo Elisei interviene maldestramente sulla conclusione di Marianeschi. Tascini ringrazia e mette dentro il gol che regala il vantaggio ai bianconeri. Un minuto più tardi è la Tiferno che protesta per questo contatto tra Lepri e Durzo ma anche in questo caso Maragone dice che è tutto regolare. Alle venticinquesimo Evangelista fa partire una bella conclusione mancina deviata in corner da Crispino. Dall'altra parte le colpe di testa di Trovade dopo le cross dalla destra di Marianeschi si stampa sul palo alla sinistra di Elisei. Alla mezz'ora ci prova Durzo per il Letiferno ma il suo destro non c'entra il bersaglio. Alle quarantasettesimo aggancio sontuoso di Convitto che punta e salta Sensi e poi ha parecchi apertascini che non può far altro che depositare in fondo alla rete il pallone del 2 a 0. Con questo risultato le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo. Ad inizio ripresa questa bella parata di Elisei nega la tripetta al numero 9 della Pianese. Gli ospiti però riescono a trovare il gol del 3 a 0 al minuto 70 quando sulla punizione di Trovade arriva il colpo di testa vincente di Folino che non lascia scampa ad Elisei. Una rete che di fatto chiude la partita che poi scivola via senza sussulti fino al triplice fischio di Maragone. Finisce così Albernicchi, Tiferno a 0, Pianese 3. Compliche piani ma questa è una squadra che abbiamo incontrato oggi, una squadra importante. Secondo me abbiamo fatto anche discretamente mezz'ora del primo tempo, poi la differenza l'ha fatta la qualità degli attaccanti avversari e i cambi perché noi poi diciamo che dopo un quarto d'ora del secondo tempo non ne avevamo quasi più. Detto questo sappiamo che i piani erano già complicati prima quindi a noi cambia poco. Abbiamo due partite ancora da affrontare e le affronteremo nel migliore dei modi. Questa partita ce la lasciamo alle spalle attaccandoci alla prestazione di una mezz'ora del primo tempo e dobbiamo continuare a lavorare. C'è poco da dire e è ancora qualcosa da fare. Diventerà decisiva la partita di Cannara? Ma ci sono talmente tante squadre vicine che è decisivo tutto adesso. Quindi dobbiamo continuare ad allenare e cercare di prendere più punti possibili da queste ultime due partite. Questa situazione ce la siamo creata noi e dobbiamo essere bravi ad uscirne. Sì, abbiamo fatto una prestazione di spessore, sicuramente non facile, anche perché il dispendio energetico delle ultime due partite è stato veramente molto alto. Siamo riusciti a trovare di nuovo energie psicofisiche. Devo dire che l'approccio è stato ottimale, quindi bravi ragazzi, bravi a stare collegati anche alla prestazione per 95 minuti. Sicuramente oggi c'è da essere contenti e fare gli enesimi complimenti a loro. In questo momento stiamo bene, questo sì, stiamo bene insieme, abbiamo degli intenti comuni, la squadra viaggia, in questo momento abbiamo delle certezze, abbiamo dei concetti che si stanno radicando sempre di più, quindi abbiamo queste ancore che per noi sono fondamentali. Adesso ci aspettano ancora 180 minuti, 190 quelli che saranno, dobbiamo stare di nuovo lì forti. Domenica ci aspetta un impegno con un coefficiente di difficoltà altissimo, ma ci faremo trovare pronti.